ciao questo è un frigo stile americano con quattro porte abbiamo qui la parte frigo è un total no frost sotto alla parte congelatore ok abbiamo due scomparti con varie temperature meno 15 meno 18 si può impostare anche varie dal pannello di comando si può impostare varie temperature abbiamo riscontrato un problema la parte del freezer non raffredda più a dovere adesso con la sonda di temperatura andiamo a misurare che temperatura troveremo nel freezer quindi noi inseriamo la sonda qui dentro e vediamo aspettiamo vedete la temperatura sta scendendo adesso era la temperatura questo era in massa in soffitta quindi è alto adesso dovrebbe arrivare a meno 15 vediamo quanto arriva ecco come vedete notate nel riquadro in basso la temperatura del freezer è di 8 gradi anche poco superiore a quella che dovrebbe essere nel frigo normale allora adesso io proverò io proverò a spegnerlo per un giorno a lasciare le porte aperte e congelarlo tutto sbrinarlo tutto in poche parole staccare la spina e dopo 24 ore riprovare accendere e fare le misurazioni il sospetto è o si è scaricato il gas o c'è un problema di qualche tipo speriamo non sia niente di complicato o di oneroso altrimenti sarò costretto a cambiarlo e prendere una marca migliore ma va che marca migliore è sempre spesa da fare non c'entra la marca dai